e oggi esploriamo da sei punti di vista, secondo me, abbastanza diversi tra di loro, quali possono essere le interazioni tra il nostro prodotto principale, cioè il laureato in Digital Humanities, e le reali esigenze di un certo numero di aziende del settore, con cui peraltro il corso di laurea e il DSLAB ha collaborato ampiamente negli anni passati, e quindi abbiamo appunto prima una breve presentazione di queste sei realtà industriali diverse, e poi faremo magari una piccola chiacchierata tutti insieme. Io adesso darei il benvenuto quindi a Chiara Iola, di Net7, Abbiamo anche delle slide Buon pomeriggio a tutti, intanto ringrazio la professoressa Tomasi di avermi invitata a partecipare a questa giornata che ho trovato finora veramente interessante, anche perché io da Digital Humanist, vista la mia formazione, se avessi avuto la possibilità di avere una giornata così, quando ho iniziato la mia carriera universitaria, sicuramente sarei rimasta affolgorata dalle tematiche che avete trattato, dal modo in cui sono stati esposti vari argomenti a favore di questo settore. Io oggi sono qui in veste di rappresentante dell'azienda Net7, che è un'azienda toscana di informatica che è stata fondata nel 2002, che lavora in vari settori, oltre a quello del Digital Humanities, di cui vi dirò tra poco, lavora nell'analisi dei dati, nell'industria 4.0, in generale dello sviluppo di applicazioni web, utilizzando vari linguaggi e varie tecnologie. Io appunto, come vi dicevo, provengo dalla laurea triennale, poi specialistica in informatica umanistica presso l'Università di Pisa, e fin dall'inizio ho iniziato a lavorare presso questa azienda, ricoprendo vari ruoli, iniziando come sviluppatrice per il web generico, e poi piano piano sono specializzata sempre di più nella gestione dei progetti dell'ambito Digital Humanities, e infatti oggi sono PM di questo settore dell'azienda, e oltre a continuare a essere una sviluppatrice. NextEvent, quindi come vi dicevo, è già dal 2002, è già dal 2002, che sviluppa strumenti digitali per studi umanistici. Inizialmente, grazie alle idee particolarmente innovative, a quel tempo di alcuni ricercatori o singoli gruppi di ricerca, che hanno voluto esplorare nuove maniere di utilizzare l'oggetto della loro ricerca attraverso gli strumenti digitali per la diffusione, per la promozione, ma anche per lo studio. Quindi sono iniziati come progetti strettamente legati a singoli ambiti di ricerca, a singoli ricercatori, come per esempio tutto l'ambiente dedicato a Nietzsche, e Nietzsche-Source, che appunto prevede la diffusione dell'opera del filosofo, passando poi per l'esperienza con la Scuola Normale Superiore di Pisa, e tutti i suoi studi sull'Ariosto, che ha portato alla realizzazione di varie piattaforme legate a questo tema, e l'epistoria di Booker Source, fino a quando l'azienda ha visto che la collaborazione con questo tipo di realtà, e gruppi di ricerca, o singoli ricercatori, era fruttuosa e comunque proseguiva, ha deciso di dedicare un vero e proprio compatto all'interno dell'organizzazione aziendale proprio ai progetti di Digital Humanities e Cultural Heritage nel senso più ampio. È entrata anche nell'ottica di sviluppare proprio dei servizi e dei prodotti dedicati esattamente a questi ambiti, come per esempio Pandit e Muruka, che sono i nostri due progetti che vertono proprio su questi settori, delle Digital Humanities e del Cultural Heritage. Questo giusto per fare qualche esempio di quello che è stato fatto, dei progetti forse un po' più noti anche in Italia, il progetto Galassia Riosto, che era un archivio digitale, e dico era perché purtroppo per questioni legate sistemistiche non è più online, però è stato un progetto veramente molto curato dal punto di vista della ricerca e della sua realizzazione grafica, un archivio digitale che indagava l'iconografia dell'Orlando Furioso, con un nesso tra le immagini e i testi del Furioso in modo in cui si relazionavano tra di loro e nelle varie edizioni nel tempo. E questo è stato un progetto su cui l'azienda ha lavorato molto, proprio in una stretta collaborazione con l'università. Per arrivare all'ultimo progetto, proprio in termini cronologici, è il progetto Serica, che invece racconta le intersezioni religiose fra la Cina e l'Europa, lungo le vie della seta, e questo è stato un progetto di ricerca secondo me estremamente interessante perché ha visto la collaborazione anche con il Dipartimento di Ingegneria, oltre che i dipartimenti legati agli studi umanistici, che ci hanno fornito degli strumenti da integrare all'interno del portale per proporre delle modalità di ricerca testuali particolarmente avanzate. Quindi qui si è andato anche oltre le digital humanities in quanto sono proprio coinvolti nel pratico gli ingegneri che hanno lavorato a questi testi in latino per la maggior parte delle volte, con dei risultati anche molto promettenti. E questo è un elenco di vari progetti che abbiamo realizzato. Non entro nel dettaglio, alcuni sicuramente sono abbastanza noti come biblioteca italiana, ma alcuni sono stati anche realizzati nell'ambito dell'Università di Bologna, come progetti sul teatro cavalleresco spagnolo. Questo per dire però come nel corso del tempo, comunque da quei primi esperimenti degli anni 2010-2012 fino ad oggi, il settore è sempre stato in movimento, ha sempre cercato delle soluzioni, ha sempre voluto realizzare dei prodotti. Infatti tutti questi sono prodotti che sono quelli che sono ancora consultabili online e ce ne sono ancora altri in fase di rilascio ed altri ancora su cui dobbiamo ancora iniziare a lavorare nel corso del prossimo anno. Quindi il settore è molto vivo. Oltre a questo, l'azienda è anche attiva nell'ambito più generico del Social Science and Humanities, l'ambito SSH, in quanto NET7 è parte di OPERAS, questo consorzio, questa infrastruttura di ricerca europea, che è dedicata proprio alla comunicazione accademica nell'ambito in generale delle scienze sociali e Humanities. E anche in questo caso i progetti che sono stati realizzati in collaborazione con gli altri membri del gruppo di ricerca sono vari e sono tutti strumenti al servizio di chi opera nell'ambito della ricerca, nell'ambito della condivisione dei risultati, della collaborazione nelle proprie ricerche. La piattaforma Glotriple è un motore di ricerca per pubblicazioni, progetti autori. La piattaforma Vera, che invece è una piattaforma collaborativa per le attività di ricerca. Il Pathfinder, che invece è un catalogo per agevolare la collaborazione tra redattori, direttori editoriali, per trovare dei servizi. Quindi sono tutte piattaforme che, se non specifiche per la realizzazione di progetti digitali umani, però sono a servizio di chi in questo settore comunque lavora. Per cui come avviene poi nella pratica il rapporto? Tra questa realtà e l'azienda. Quello che ci viene richiesto inizialmente sono gli strumenti tecnologici, quindi realizzare le interfacce per la gestione e l'inserimento dei dati, realizzare portali web per la consultazione delle risorse, la visualizzazione dei testi codificati, oppure strumenti avanzati per la condivisione e la promozione di un approccio collaborativo ai progetti di ricerca, o strumenti di ricerca basati su varie tecnologie, da semplici ricerche testuali ad analisi più approfondite dei testi, magari anche applicando dei processi di analisi del linguaggio particolarmente approfonditi. Inoltre, data anche la nostra esperienza, che deriva non solo da progetti in questi ambiti, ma come dicevo all'inizio, anche da altri ambiti, che possono essere quelli industriali, quelli delle data visualization in ambito proprio dell'industria, legata all'industria 4.0, visualizzazione dei dati macchina, che sembrano ambiti molto lontani, ma che in realtà ci hanno permesso di sviluppare una determinata esperienza anche in questo. quindi quello che ci si chiede è di provare ad allargare un po' il panorama dei progetti, proponendo noi delle soluzioni innovative, ma maggiormente orientate all'utente finale. E quindi, in questo ambito, diciamo che la figura del Digital Humanities, come è stato delineato durante la mattinata, come quella figura che può mettere in comunicazione nei vari ambiti, nel panorama anche aziendale, diventa molto utile. Infatti, per noi, chi è un Digital Humanist e qual è il suo ruolo, anche il suo valore aggiunto? Intanto è quello di conoscere e orientarsi con l'argomento e i contesti dei progetti di ricerca, perché rapportandoci con la realtà di ambito umanistico, a volte sapere di cosa si parla permette di riuscire a capire a pieno le esigenze di chi ci chiede la realizzazione di una determinata piattaforma, ad esempio. E quindi capire anche le esigenze scientifiche che ha il gruppo di ricerca, cioè quali sono i propri risultati che vuole perseguire in termini scientifici. E inoltre può anche già prevedere delle criticità legate alla specificità dei progetti. Ad esempio, mi è venuto in mente alcuni casi in cui le prime obiezioni post direttamente lato nostro, lato azienda, sono state ok, ma in che lingua sono i documenti, esistono abbastanza risorse per poter avviare questo progetto, ci sono problemi di licenza, c'è avere proprio un approccio attivo, non soltanto di ricezione delle specifiche ed esecuzione di un progetto. Abbiamo visto che appunto, soprattutto in quei progetti, che alla fine sono stati valorizzati poi a livello della comunità scientifica, questo scambio è stato continuo e molto proficuo. E inoltre, appunto, sempre nell'ambito di chi si laurea nelle facoltà di Digital Humanities, specialmente chi si laurea oggi, in questi anni, può proporre soluzioni innovative e aggiornate, perché ci si aspetta che i corsi di studi comunque vengano sempre aggiornati rispetto alle nuove tecnologie, a quello che sta avvenendo, adesso esplosa l'intelligenza artificiale, per cui ci aspettiamo che questo diventi un dominio di chi adesso si laurea in queste discipline e che possa portare questa sua conoscenza in azienda. C'è anche tutta la parte della bandistica, dell'ideazione, scrittura, stesura del progetto, questo diciamo riguarda un po' le competenze che vengono acquisite rispetto appunto ai corsi di studio, le capacità di scrittura, di analisi dei progetti, anche questo è un tema importante, viene spesso portato nei vari siti delle facoltà di Digital Humanities come sbocchi professionali, la capacità di project management. È vero, questa capacità, questa interdisciplinalità permette di sapersi muovere molto in questo contesto. Quindi questo più o meno è quello che per sintetizzare la formazione interdisciplinare aiuta nell'orientarsi nei progetti, ma anche possedere strumenti di lavoro pratici, quindi saper programmare, avere la possibilità di utilizzare determinati strumenti, rende le figure che escono da questi corsi di laurea impiegabili in molti contesti. Con l'università, NetSemen ha un rapporto di scambio molto proficuo, tanto con l'università di Pisa, ma recentemente anche con Bologna, con cui ci scambiamo progetti di ricerca, tirocinanti, progetti nell'ambito sia dei corsi di studio, ma anche nell'ambito dei dottorati. Tra l'altro in sala oggi ho trovato vari studenti che sono stati tirocinanti, che ancora collaborano, che partecipano a dottorati, e questo mi fa molto piacere, devo dire. E quindi noi come azienda comunque siamo a disposizione sempre nell'accogliere e continuare questo scambio con tirocinanti. Grazie dottoressa Iola. Io adesso darei la parola in questo breve giro di presentazioni al dottor Giulio Blasi, che è fondatore e amministratore delegato di Horizons Unlimited. Non ho delle slide, ma vi faccio vedere. Non stai visitando? Sì, guarda. E devi usare gli edge. Vai. No. No, stai usando edge. Ah, perdone, sì, non devo usare edge, devo usare un po' chrome. Sì, io sono in tante me, che sono diventato un analfabeto. inizio, Ok, va bene. Prego. Grazie, grazie mille. Dunque, Horizons, devo resistere alla tentazione di fare un po' di autobiografia sentimentale, perché era nel 1993 una start-up dell'Università di Bologna, di fatto era uno spin-off universitario, ma non vi racconto questa storia, se qualcuno è curioso vi la racconto nell'intervallo. Horizons Unlimited è una società che offre servizi di digital library, e offre servizi di digital library facendo fondamentalmente tre cose abbastanza differenti l'una dall'altra, offre un servizio di intermediazione di contenuti digitali per le biblioteche, biblioteche pubbliche, scolastiche e accademiche, intermediazione significa che vende contenuti, per la verità oltre a vendere inventa delle licenze che permettano di vendere contenuti digitali alle biblioteche, quali contenuti? Libri, e-book, audiolibri, film, musica, quotidiani e periodici, eccetera eccetera. Quindi fondamentalmente costruisce relazioni con gli editori per consentire un'attività che noi chiamiamo e-lending, si chiama e-lending nel settore prestito digitale se volete, e che permette alle biblioteche di acquisire e intermediare contenuti digitali di ogni tipo. Questo è nel portale che potete sfogliare, vedete un pezzetto di questa collezione. giusto per darvi un'idea delle dimensioni, il catalogo degli e-book che offriamo è un catalogo italiano e straniero che ha circa un milione e mezzo di titoli, offriamo circa un catalogo di audiolibri che è superiore a 100.000 titoli, c'è un'edicola fatta di 7.000 riviste, eccetera eccetera eccetera. Quindi intermediazione di contenuti digitali. questo servizio lo offriamo alle biblioteche pubbliche, lo offriamo alle biblioteche accademiche e lo offriamo alle biblioteche scolastiche. Attualmente Mnol è utilizzato in oltre 6.500 biblioteche pubbliche italiane in tutte le regioni. In alcune regioni, per esempio quelle in cui siamo, c'è una copertura o in Lombardia o in Toscana, c'è una copertura del 100%, cioè quindi tutte le biblioteche civiche di queste aree territoriali hanno una licenza una licenza Mnol. Lo offriamo alle scuole, questo è un servizio più recente, Mnol è nato nel 2009, quindi un bel po' dopo diciamo la start-up universitaria del 93, e il servizio per le scuole è nato nel 2016-17 e adesso siamo in 1.500 scuole, le scuole italiane sono 10.000, le sedi scolastiche sono 40.000, quindi c'è ancora un sacco di lavoro da fare, però è un servizio che siamo praticamente i soli ad offrire e quindi è un servizio che ci sta dando tantissima soddisfazione. Qui l'obiettivo è quello di arrivare appunto nel contesto, fare diciamo biblioteca digitale nel contesto delle biblioteche scolastiche. Le biblioteche scolastiche hanno una caratteristica essenziale in Italia e cioè non esistono, c'è un numero piccolissimo di scuole, noi viviamo in una regione dove c'è un ottimo livello di presenza di queste istituzioni nelle scuole, in altre regioni il tasso, il numero di scuole, diciamo, la percentuale di scuole che posseggono una biblioteca decente e microscopico e quelle che ce l'hanno, questi sono i dati nazionali che abbiamo, hanno una collezione di 2.000-2.500 titoli. Ora, una caratteristica del digitale che dipende dai modelli distributivi, non dal fatto che il digitale è migliore o peggiore dell'analogico, è il fatto che permette di portare delle enormi collezioni a costi molto contenuti anche in realtà piccolissime. Per esempio, il servizio che offriamo alla scuola parte con un catalogo di 90.000 titoli solo nel settore degli e-book e in alcuni casi offre l'intero catalogo con aggiornamento real-time dei più grandi editori, non so, il gruppo Mondadori nel pacchetto che noi offriamo alla scuola viene aggiornato quotidianamente se stamattina è stato pubblicato un nuovo romanzo da uno dei marchi della Mondadori lo trovate domattina in tutte le applicazioni per le scuole. Questo può sembrarvi banale ma è un vero e proprio salto quantico perché per la verità anche per le biblioteche pubbliche pensate che in Italia solo il 10% delle biblioteche ha una collezione superiore ai 50.000 titoli quindi questo è un al di là ripeto dei vantaggi e degli svantaggi specifici del medium dal punto di vista della diversità dei titoli della bibliodiversità come dicono i bibliotecari ha un vantaggio distributivo molto forte. Infine un terzo ambito è quello che noi chiamiamo l'DH Digital Humanities in cui facciamo sostanzialmente due cose aggreghiamo risorse ad accesso aperto da istituzioni culturali di tutto il mondo e nell'ultimo periodo lo facciamo in modo particolare guardando alle risorse che rispettano il protocollo IIIF di cui diciamo consorzio internazionale diciamo fondamentale uno protocollo uno standard diciamo semplificando al quale deriscono le maggiori istituzioni culturali di tutto il mondo di cui noi siamo un membro e sviluppiamo anche software e applicazioni in questo ambito e che fondamentalmente oggi è lo strumento principale di interoperabilità delle biblioteche delle biblioteche digitale scherzando ma non tanto la mia idea è che nel settore dei beni culturali nel giro di 15 anni 10-15 anni IIF sarà la sigla che diciamo sarà diventerà standard diciamo è importante quanto HTTP nel settore del web è un'esagerazione ma non tantissima quindi aggregazione di contenuti che provengono da diciamo da estensioni culturali di tutto il mondo per far cosa per al momento per costruire un grande repository di contenuti che vanno soprattutto al mondo della scuola anche se poi ci sarebbe un discorso complicato da fare sulle dinamiche di utilizzazione e la seconda cosa è partecipare a progetti di digitalizzazione quindi sviluppare un servizio di digitalizzazione che facciamo non da solo ma assieme ad una serie di partner che diciamo con cui che coprono servizi che vanno dalla digitalizzazione fisica dell'oggetto standard o in gigapixel fino alla gestione il trattamento dei metadati che può arrivare a livelli di complessità diciamo di qualunque di qualunque genere fino appunto alla pubblicazione al front end alla creazione di spazi per gli utenti finali che invece è il compito specifico di Mlol e la nostra ambizione qual è? Mlol ha circa 2 milioni di utenti registrati ora un problema classico delle biblioteche digitali delle biblioteche delle biblioteche digitali in particolare è il fatto di aver suddiviso diciamo in tanti micro siti micro applicazioni eccetera gli interessi degli utenti allora la nostra sfida è quella di dire beh se noi abbiamo 2 milioni di utenti registrati che vengono nelle biblioteche per leggere i libri correnti il materiale corrente e per leggere i quotidiani eccetera forse questo è il posto giusto dove fargli trovare dove incrociare anche le esigenze diciamo di un pubblico di ricercatori ma viceversa dove portare contenuti tradizionalmente usati solo dai ricercatori invece a un pubblico più generale penso per esempio al mondo al mondo della scuola oggi c'è un problema enorme di uso nel settore scolastico delle risorse digitali però la premessa per questo è avere un servizio di aggregazione di catalogazione efficiente quindi diciamo che in tutti i componenti del lavoro che noi facciamo c'è qualcosa di digital diciamo di digital umanistico ci occupiamo di metadati di gestione armonizzazione creazione di metadati harvesting di metadati gestione delle interazioni tra istinzioni diverse attraverso API ci occupiamo di standard ci occupiamo di progettazione ci occupiamo anche di comunicazione di progettazione di user experience per servizi specifici se avete voglia e tempo se qualcuno di voi ha un account vi invito ad esempio ad usare un servizio che abbiamo inventato da poco che si chiama storia ed è un servizio che vi permette di intrecciare tra loro oggetti digitali ad accesso aperto un'immagine diciamo di una mappa antica o un manoscritto un libro un dipinto eccetera eccetera e di costruire vostre narrative ce lo siamo immaginati come un servizio molto generico che possa servire ad uno spettro di utenti molto molto largo lavoriamo sui dati e naturalmente lavoriamo anche sugli oggetti digitali stessi che sono diversissimi tra loro un audiolibro a problematiche che non ha un ebook un ebook diciamo è un oggetto che se viene fuori dalla pancia di un editore è un conto se invece per ibook intendiamo un libro digitalizzato in una biblioteca stiamo parlando di una cosa radicalmente radicalmente differente e spesso facciamo si fa confusione tra queste cose e per ognuna di queste cose bisogna immaginare ci sono problematiche tecnologiche problematiche di promozione comunicazione e anche in qualche modo bisogna inventarsi modelli di servizio che non sono scontati scontati a priori a priori quindi diciamo è un nella nostra azienda viviamo proprio quotidianamente il problema di tecnici che non capiscono una cippa di temi biblioteconomici o insomma in senso largo relativi ai contenuti e viceversa diciamo di umanisti che hanno il problema di adeguarsi ad una procedura di lavoro che implica delle diciamo delle cognizioni tecniche cominciano a venire fuori delle figure ibride internamente diciamo quindi dei simbionti diciamo un po' programmatori un po' umanisti eccetera eccetera ma la speranza è che diciamo invece di crearli noi probabilmente con delle mutazioni non perfettamente efficienti vengano fuori invece da istituzioni come questa che possono con una osservando meglio il mondo quello che succede quello di cui c'è bisogno formarli più adeguatamente grazie 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 dottor Blasi darei adesso la parola al dottor Giovanni Bruno fondatore e amministratore delegato di Regesta io non ho nulla da farvi vedere ho solo qualcosa da raccontare vediamo questo ok se permettete di seguo registra.com si ok registra.com allora la vicenda la vicenda di Regesta nel campo delle digital humanities comincia con la nascita dell'azienda cioè noi siamo attivi dalla metà degli anni 90 siamo nati anche noi più o meno all'interno di un consorzio universitario e poi abbiamo proseguito per sulle nostre gambe quindi nella seconda metà degli anni 90 si iniziava a parlare di standard in particolare parliamo di standard in campo archivistico stiamo parlando i primi progetti di migrazione digitale e in questo in questo settore noi siamo nati con tre progetti nei fatti che abbiamo avviato allora il progetto dell'archivio storico dell'IRI che aveva impegnato nel corso di 15 anni di lavoro oltre 10 persone la cineteca dell'istituto luce anche questa avviata nel 96 e che poi è andata avanti fino a pubblicare ormai da quasi 20 anni un sito web dove è accessibile interamente la documentazione dell'istituto l'archivio storico della della Camera dei Deputati che avvia nel 97 la digitalizzazione del proprio patrimonio in questi anni si quindi nasciamo come società specializzata esclusivamente sul campo nel campo dei beni culturali e quindi inizialmente lavoriamo soprattutto con professionalità che provengono dal campo della ricerca della ricerca storica questa è stata una delle caratteristiche dell'azienda ed è quella che tuttora ci portiamo ci portiamo avanti il il cambiamento nei fatti è nato è nato nel 2001 2002 quando abbiamo vinto un progetto europeo e lì abbiamo iniziato a costituire la nostra prima sezione tecnologica dell'azienda che poi è andata sviluppandosi rispetto a questo primo questo primo momento di di avvio dell'azienda e di avvio del rapporto con il mondo con il mondo degli archivi il secondo il secondo progetto su cui mi vorrei un attimo soffermare è stato nel 2009 nel 2009 abbiamo preso come evidenza abbiamo iniziato a puntare sui link e dopo in data proponendo un progetto alla camera dei deputati di cui trattavamo l'archivio per la gestione di quello che da lì a due anni sarebbe diventato il portale storico della camera dei deputati quindi in questo caso anche qui il lavoro che è stato che è stato fatto allora è stato fatto in questi due anni di preparazione della della soluzione è stato un lavoro innanzitutto di sistemazione dei delle informazioni che provenivano dalla provenivano dalla camera considerando che comunque dovevamo prendere in considerazione oltre 150 anni di vita dell'istituzione trattare tutte le adesso a questo punto ve lo faccio vedere trattare tutti gli elementi tutti gli elementi che erano stati pubblicati in questi anni e quindi e un 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 attimo. Quindi di cercare, grazie, di cercare i deputati, i lavori, gli atti e documenti. La cosa che è stata fatta e che comunque continua a essere sviluppata è che per i deputati esiste la possibilità di vedere i deputati in tutta la loro attività, indipendentemente da quando sono stati eletti, se alla Camera o al Senato, se nel Regno o nella Repubblica. Questo progetto qui ha rappresentato l'inizio. Questo si regge su una ontologia che è stata fatta per la Camera ed è un'ontologia che si chiama OAD, Ontology of Archival Description, e che ovviamente ha dovuto tenere conto di... e che è accessibile dal portale dei dati della Camera e che ha dovuto tenere conto di tutte le interdipendenze che esistono tra i vari elementi che compongono il mondo camerale, come pure tutte le modifiche delle procedure che hanno seguito il corso del tempo. Dal portale Camera è nata una specializzazione su LinkedIn Open Data. Questa specializzazione su LinkedIn Open Data, che vuol dire sostanzialmente un'attenzione ai contenuti e alla possibilità di definire quindi meglio il contenuto delle banche dati, ha sempre richiesto nei fatti una interazione di competenze tra competenze più esplicitamente tecnico-professionali di tecnico-informatiche e competenze di tipo più umanistico. In questo caso, quindi, arriviamo da qui al progetto che adesso vediamo di scrivere bene. Al progetto che è stato realizzato negli ultimi tre anni, che è il Catalogo Generale dei Beni Culturali. Qui sono conservate, sono accessibili circa 3 milioni di beni con le loro schede catalografiche. Eccoli qui. In questo caso qui noi abbiamo realizzato la parte tecnico-informatica e l'ontologia era stata in questo caso realizzata da un accordo tra ICCD e CNR per la formalizzazione di questa ontologia ARCO, che attualmente è quella su cui si basa il portale. L'ontologia sostanzialmente descrive l'intero insieme dei beni culturali, indipendentemente dalla tipologia di beni, e pubblica questi dati su un endpoint SparkQL da cui noi li ritiriamo fuori e li rimappiamo sulla scheda. In questo caso, quindi, questa particolarità vuol dire che ugualmente abbiamo bisogno, per quanto non siamo autori dell'ontologia, ma soltanto utilizzatori dell'ontologia, di chi sappia leggere l'ontologia, di chi sappia intendere il modo di formalizzare le informazioni e quindi le sappia pubblicare in maniera corretta. Quindi queste sono, seguendo e questo è il, diciamo così, la scheda RDF del bene con le loro formalizzazioni, con le formalizzazioni proprie dell'ontologia. Tra l'altro con i CCD stiamo lavorando sempre per, in maniera continuativa, anche per la pubblicazione dei dati dell'archivio fotografico, degli archivi fotografici degli CCD, e dovrebbe uscire a giorni, a giorni quest'altro portale. Da questo punto di vista, quindi, adesso mi fermo, quindi l'interazione tra esperti di dominio e informatici è un'interazione virtuosa ed è il vero fulcro di questa seconda ondata di Digital Humanities. Aspettiamo la terza. Io per ora ho finito. Ok, darei adesso la parola al dottor Antonio Puglisi, fondatore e amministratore delegato di Digital Paths, e poi di Bologna. Bene. Buongiorno a tutti. Ah, c'è un slide? Possiamo attivare? Lascio fare a te perché io con Windows... Sì, sì, intanto vi racconto un po' chi sono perché è utile a capire anche un po' lo spirito d'azienda. Io sono laureato in informatica, ho voluto come professore, professore di Italia, e poi ho fatto un master di comunicazione in New Media. Tutto questo mentre per 15 anni ho fatto il DJ e ho girato l'Italia all'Europa e poi ho fondato un festival di musica elettronica e arti digitali qui a Bologna che si chiama Robot Festival. Tutto ve lo dico perché a un certo punto ho messo tutte queste competenze e questa grandissima confusione che avevo in testa e ho creato Digital Paths. E quindi ora un po' ve la racconto. Allora, siamo un'agenzia di comunicazione che lavora in intersezione tra design, comunicazione e tecnologia. Quello che proviamo a fare è accompagnare i clienti a trovare il loro percorso digitale in quello che è un mondo, quello digitale, che cambia in continuazione ed è sempre più complesso. Come lo facciamo? Lo facciamo costruendo delle soluzioni custom, quindi disegnate sempre sui bisogni dei nostri clienti, mettendo al centro le persone, utilizzando tecnologie che noi teniamo più opportune, che sono sempre rispettose delle persone stesse. Lo facciamo, vado velocemente, non mi vorrei ammorbare troppo, poi vi faccio vedere qualche case divertente. Lo facciamo con questi tre step che caratterizzano il nostro modo di lavorare, è una fase di ascolto e di analisi, poi c'è una fase di creazione, quelli che possono essere i vari contenuti, quindi insomma, o anche di tool, siti, applicazioni, video, insomma, tutto quello che serve nella fase della comunicazione. E poi c'è una fase di amplificazione che serve appunto per trasmettere questi oggetti o queste attività che facciamo sui social, nel web, affinché poi si raggiungano gli obiettivi di comunicazione che ci siamo, insomma, dati con il cliente. Siamo, ora siamo 12 in verità, abbiamo 25 progetti attivi e siamo un po' diffusi su Roma, Bologna e Milano. Siamo una piccola agenzia fondamentalmente, non siamo grandi. Qui sono alcuni clienti con cui abbiamo lavorato negli ultimi tre anni, grandi aziende tipo Google, Alibaba, ma anche tipo realtà molto piccole sul territorio tipo Forno Brisa, non so se lo conoscete, che sta qui a Bologna. Beh, anche con il cine che abbiamo lavorato effettivamente. Non mi ricordo. Allora, vi racconto un po' di case divertenti. Abbiamo lavorato per D-Max e loro ci hanno chiesto di lanciare, di fare attività di comunicazione per lanciare una serie, una nuova serie che si chiamava Metal Detective, non so se qualcuno di voi la conosce. c'è questo pazzo furioso che va in giro agli appennini a trovare dei reperti bellici della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo fatto fondamentalmente un piano di comunicazione che prevedeva questo tipo di attività. Abbiamo ricreato un metaverso che un po' ricalcava le ambientazioni dove andava Giba, si chiama il personaggio, a raccogliere i suoi oggetti. Queste ambientazioni erano, più o meno ricreavano, insomma, queste ambientazioni digitali ricreavano gli spazi fisici dove lui andava a raccogliere gli oggetti e poi le persone potevano andare a raccogliere gli oggetti e avere una serie di informazioni in più che non era possibile avere dalla puntata. Quindi si creava questa circolità tra il mezzo televisivo e il mezzo digitale. In più le persone potevano incontrarsi online, potevano discutere, tutto è stato fatto attraverso le logiche di gamification, c'erano cinque livelli, chi arrivava in fondo poi aveva la possibilità di incontrare sempre online il personaggio della serie. È avuto molto successo, queste sono le attivazioni poi anche sui canali social, questi risultati, vabbè, insomma, abbiamo chiamato un premio con questo progetto. Abbiamo fatto un progetto per Team, Team era partner di Jove Beach Party e ci aveva chiesto di immaginare qualcosa, uno dei temi grandi, che è stato un po', come dire, criticato l'evento era l'impatto ambientale che aveva nel location dove arrivava. Quindi ci hanno chiesto di fare un quiz in modo divertente che le persone potevano fare per capire tutte le azioni di sostenibilità che erano state messe in campo per andare a un po' compensare quello che era l'impatto ambientale del grande evento. Quindi abbiamo fatto un'app mobile e le persone potevano rispondere alle domande con il semplice movimento della testa. Quindi, scotendo la testa, andavano avanti con le domande e potevano rispondere. Questa cosa è stata molto divertente, quindi le persone, insomma, giocavano in spiaggia con la nostra app. Anche questo ha avuto tanti successi, abbiamo avuto più di 4200 giocatori nelle settimane in cui c'è stato il tour di Giovanotti. Poi, accedere a questo case, insomma, perché racconta un po' quello che facciamo a 360 gradi durante il Covid. Tutti sapete che la gente si è messa a panificare un brand della grande distribuzione ci ha chiesto di lanciare una farina e quindi abbiamo fatto tutto il concept, abbiamo fatto la campagna chiamandola il master del cornicione per poter fare le pizza a casa. Quindi abbiamo fatto la grafica, abbiamo fatto tutto il piano di comunicazione che partiva da un sito, i social, Instagram, TikTok, abbiamo chiamato l'influencer che facevano vedere come fare la pizza a casa e insomma, tutto questo, insomma, ha creato tanto rumore online e il progetto è andato molto bene e il cliente era molto contento di tutta la campagna che avevamo fatto. Vado veloce, poi abbiamo lavorato anche perché c'è anche cose un pochettino più serie e non sono cose così divertenti e abbiamo lavorato per Alibaba l'anno scorso o due anni fa non mi ricordo più quando sono arrivati in Italia perché il progetto era, Alibaba aveva un posizionamento errato nell'idea delle persone tutti pensavano che fosse un e-commerce tipo Amazon cosa che non è quindi ci avevano chiesto di correggere il posizionamento online della piattaforma spiegando che era piattaforma sì di e-commerce ma B2B con tutte le opportunità che erano pensate per questo tipo di aziende quindi abbiamo fatto tutto un piano editoriale anche qui con sui social infografiche materiali per spiegare effettivamente alle persone che cosa era che cosa era Alibaba ok vabbè Fornobrisa racconto velocemente insomma abbiamo fatto tutte le campagne però è Fornobrisa che è un forno che qui a Bologna ha 5 punti vendita siamo partiti con il panettone il famoso panettone di Fornobrisa però ora facciamo un po' tutto con loro e l'ultima cosa che vi racconto è Archilab che è una cooperativa sociale che si occupa di formazione qui a Bologna e per loro abbiamo fatto tutto cioè tutto il riprending abbiamo ripensato il logo abbiamo ripensato tutto il loro sito tutta la loro immagine i materiali il loro posizionamento online tutte le campagne insomma abbiamo proprio ricreato fondamentalmente il brand con tutta una serie di attività online tutto questo come lo facciamo che magari è quello che vi interessa alla fine di tutta questa storia facciamo queste sono un po' le figure che noi abbiamo in agenzia che compongono i nostri team quando poi lavoriamo sul progetto noi riceviamo un brief da parte delle cliente tendenzialmente una gara quindi io poi compongo dalle risorse che abbiamo in agenzia un team che è composto da responsabili dei contenuti che sono sviluppatori ci sono social media manager ci sono gli art director un account che poi fa da per faccia con il cliente e il team interno quindi deve avere grandissima pazienza e poi anche responsabile del lato tipo campagne e tutto e poi ho fatto questa tra di ma non vorrei anticipare il tema della rotonda queste secondo me sono le competenze che a noi servono per tenere l'agenzia sempre aggiornata e che poter fare sempre dei progetti che in qualche modo siano interessanti e innovativi per i nostri clienti quindi da analisi dei dati la creazione dei contenuti l'archiviazione dei dati stessi la ricerca di nuovi trend online e saper collaborare in modo con tante persone e quindi avere tipo dei soft skills che abilitano il lavoro interdisciplinare mi fermo qua professore a Sorosola Benincasana Buon pomeriggio Buon pomeriggio a tutti scusate piccolo tema tecnico e buon pomeriggio grazie a Fabio dell'invito grazie a tutti voi dell'occasione di un confronto che sarà sicuramente molto interessante dopo Fabio ha già anticipato il mio background o meglio la mia esperienza io sono uno dei fondatori di Relab è un'azienda che oggi ha un dei spalle quasi ventina d'anni di lavoro nasce anche Relab come molte altre raccontate dai colleghi da un'esperienza sostanzialmente universitaria da uno spin-off universitario Università di Modena Reggio Emilia e dal 2004 si occupa di un tema che credo abbia molti punti di contatto per la sua versatilità o trasversalità con quello che si fa in questo Ateneo sia dal punto di vista della didattica sia con voi in particolare e anche dal punto di vista della ricerca che è la Human Machine Interface noi ci occupiamo da sempre di questo argomento e con una certa destinazione continuiamo a farlo su diversi domini quello che trovate qua è un'indicazione presuntamente distante da quello di cui ci si occupa chi fa un percorso di studi come quello che viene oggi celebrato e cioè il dominio dei trasporti e dell'automotive noi facciamo interfacce principalmente collegate al contesto automobilistico seppure non in maniera esclusiva quindi sono i cluster che trovate nei veicoli digitali sistemi di infotainment che ogni tanto si vedono sempre più si vedono le app collegate tutta la catena di contenuti che vengono fruiti e utilizzati in mobilità lo facciamo sui veicoli lo facciamo sui motocicli lo facciamo sugli ambiti veicoli meno noti come i trattori come altri contesti e quindi siamo sostanzialmente una società di engineering con una grossa vocazione all'integrazione verticale dei contenuti di interfaccia cioè quello che progettiamo cerchiamo di concorrere a portarlo in produzione e a fare in modo che funzioni sul prodotto finito allora in questo senso il claim che noi ci siamo inventati credo nel tempo più per consuetudine che per una precisa volontà strategica è interaction engineering cioè in qualche modo ingegnerizziamo l'esperienza di interazione questo però non significa che siamo una società a prevalente vocazione tecnica o perlomeno a prevalente vocazione ingegneristica siamo una società che oggi conta circa 120 persone tra i 120 i 130 che ha all'interno designer UX and UI designer per usare un tema noto penso a tutti noi che ha al suo interno esperti di fattori umani cioè gli ergonomi quelli che si occupano del valutare l'interfaccia dal punto di vista delle metriche di usabilità sia quantitative che quantitative e sto semplificando un linguissimo tema e poi ci sono quelli che si occupano del procedere successivo della realizzazione di un'interfaccia dall'idea all'elemento che funziona sul campo giusto per mostrarvi un grafico qua vedete per esempio come un'interfaccia possa evolvere dal wireframe fino a qualcosa che arriva a bordo della della macchina ecco che all'interno di questo percorso evidentemente c'è soprattutto sull'ultima parte che vi dicevo una componente tecnica una componente tecnica che ovviamente prende i requisiti i progetti le idee che nascono nelle prime fasi di realizzazione evidentemente già immaginate ipotizzate in interazione con gli utenti quindi è evidente che in termini di tutto questo processo c'è un'attenzione per così dire ostinata verso l'utente verso le sue necessità e verso i suoi vincoli e i suoi requisiti operativi e poi questa idea e questo tema matura fino a diventare un prototipo e poi diventa in certi casi o direttamente con la collaborazione degli altri attori industriali un prodotto e quindi in questo senso partecipano al gioco come dicevo non soltanto come dire gli UX i designer gli esperti di funzioni i prototipi scusate gli ergonomi ma anche ovviamente i tecnici nel senso tradizionale del termine quindi softwareisti ingegneri di varia estrazione e anche delle figure sempre più intermedie e qua vengo al punto che in qualche misura coabitano tra il contesto tecnico e il contesto per così dire umanistico e anche qua mi scuserete della semplificazione ma il fatto è che queste figure di transito o di come dire relazione e di interazione tra questi due mondi sono essenziali persone che conoscono la dimensione tecnica ma che conoscono anche la dimensione umanistica ecco questo è forse il nodo chiave del nostro lavoro e del nostro approccio e la ragione per la quale il dialogo con una realtà come questa è decisamente ricco e decisamente suggestivo e importante dicevo abbiamo un indirizzo legato alla progettazione di progetti di questo tipo quindi realizzazione di interfacce come quello che vi ho detto abbiamo anche evidentemente una vocazione alla ricerca e allo sviluppo dove ancora una volta ritroviamo contenuti di interazione che cercano di espandere i temi proprio legati all'interazione ad una dimensione un pochettino più avanzata dove si chiamano in causa evidentemente altre tecnologie vi cito giusto un caso di un progetto europeo che si è chiuso in questi giorni e che abbiamo seguito si chiama Next Perception e all'interno di questo progetto per esempio ci sono una serie di sensori che sono stati realizzati da vari attori sensori che riconoscono questa è un'applicazione automobilistica ma non immaginate esclusivamente come dire confinata al contesto automobilistico dove dicevo ci sono diversi sensori che riconoscono lo stato dell'utente qualcuno che ci dice se l'utente è stressato che qua vi perdonerete qualche semplificazione dovuta al tempo qualcuno che ci dice se l'utente si sta girando si sta muovendo in posizioni come dire particolari nella guida qualcuno che ci rileva se l'utente ha una distrazione cognitiva o visiva in qualche modo ricostruiamo la dinamica comportamentale la dinamica cognitiva dell'utente sulla base di questo attuiamo una strategia di interazione che adatta l'interfaccia in tempo reale allo stato dell'utente ed è un grande tema sul quale noi stiamo lavorando ormai credo da un ventennio con tanti altri naturalmente perché pongo questo tema al tavolo e cerco di come dire struderlo dalla parte propriamente tecnica perché in questo caso la tematica è una tematica fortemente tecnica si tratta di sensori che devono adeguare il comportamento del sistema allo stato dell'utente ma c'è dietro a questo un profondo e umanissimo tema e cioè una volta che io ho dal punto di vista dei sensori queste informazioni essenziali so ipotizzando che i sensori funzionino bene che l'utente è distratto che l'utente è arrabbiato che l'utente in qualche modo ha bisogno di qualche informazione come adatto modifico le informazioni in funzione di questo stato qual è la strategia progettuale non stilistica la strategia progettuale nell'architettura informativa grazie alla quale riesco a trarre vantaggio da questa informazione e questo è io ne sono fermamente convinto un tema che non può essere smarcato dal punto di vista né prettamente tecnico né prettamente stilistico serve qualcosa di mezzo che a me piace chiamare design nel senso del verbo inglese cioè una capacità progettuale che trasforma la conoscenza che abbiamo delle tecnologie in istanze progettuali di interazione verso le persone ecco questo secondo me è il bacino di partenza sul quale si può immaginare un dialogo proficuo con una realtà come quella che richiedo che dico ancora in qualche modo oggi viene celebrata e che la nostra azienda vede come una relazione favorevole e virtuosa direi che anticipandomi sui tempi chiudo così diamo luogo al dibattito grazie ancora per la vostra attenzione ok l'ultimo dei nostri presentatori per oggi dopo ripeto avremo una breve tavola rotonda in cui li rivedremo tutti insieme a chiacchierare su vari temi il dottor Andrea Angiolini adesso mi arrancio se c'è un browser se c'è un browser va bene buonasera io in mente presentato il dottor Andrea Angiolini buonasera intanto l'ora si fa tarda allora sono Andrea Angiolini sono il direttore editoriale del Mubi quindi di una realtà diciamo meno innovativa almeno sulla carta rispetto alle interessantissime che ho ascoltato fino adesso vorrei cominciare così io sono un laureato in filologia classica faccio il direttore editoriale del Mulino e faccio da vent'anni il responsabile del digital publishing del Mulino perché io ma probabilmente perché allora fu presa la persona più lontana in assoluto da questo mondo e fu detto senti fallo tu che almeno fai pochi danni no quindi era una garanzia da un certo punto di vista che avremmo fatto forse delle cose sensate certamente non delle cose eccessive noi siamo un editore siamo un editore da 70 anni e pubblichiamo riviste e libri pubblichiamo libri e riviste nel settore academic quindi monografie di ricerca riviste accademiche ne abbiamo un'ottantina pubblichiamo testi per la discussione pubblica quindi testi non specialistici da general reader da lettore non disciplinare e pubblichiamo manualistica universitaria pubblichiamo carta sana e vecchissima solida carta però io avevo un compagno di classe che da sempre mi diceva che forse non bastava si chiama Fabio Vitale e quindi nel tempo il rapporto con le riflessioni del professor Vitale le riflessioni di tutto il suo gruppo qui c'è anche il professor Peroni c'è il professor di Iorio da qualche parte eccola c'è la professoressa Tomasi che ho conosciuto qualche anno dopo sono state sempre molto intense perché c'era questo tarlo la carta non basta e quindi noi 30 anni fa 25 anni fa ci siamo incapricciati dell'idea che per fare l'editore bisognava fare anche altre cose attenzione oggi è scontato 25-30 anni fa non c'erano le piattaforme non c'era Amazon non c'erano gli ebook non c'era nulla non c'era nulla veramente nulla e quindi cosa ci è capitato di fare e perché siamo entrati in rapporto con Unibo con altre realtà di digital publishing di digital humanities nel corso degli anni in Italia e all'estero ci è capitato di vedere che cambiava il mercato cioè cambiava la comunicazione scientifica cambiava il modo di discutere nell'opinione pubblica cambiava il modo di studiare in periodi diversi e in modi diversi e quindi se cambiava questo modo un editore si doveva porre il problema dell'efficacia delle proprie pubblicazioni e quindi di pubblicare a stampa ma pubblicare anche in digital quindi noi da 25 anni gestiamo nel corso del tempo si sono accresciute gestiamo piattaforme una piattaforma sono tutte piattaforme a cui Unibo è abbonata quindi ve le faccio vedere poi le potrete provare una si chiama riviste web adesso se riesco a digitare ci facciamo una è dedicata alle riviste quindi noi pubblichiamo 80 riviste questa è una piattaforma institutional rivolta quindi alle istituzioni accademiche molto classica molto tradizionale che segue la letteratura internazionale in merito qui diciamo la sfida è adeguarsi agli standard internazionali pur essendo un editore nazionale non si tratta di avere particolari fantasie si tratta però di avere magari particolari attenzioni rispetto ad alcuni temi come possono essere per esempio la cura dei metadati altri ve li cito successivamente e quindi noi abbiamo iniziato nel 2004 con questa con questa piattaforma quindi è una piattaforma che ha ormai 30 anni abbiamo rinnovata molte volte un'altra piattaforma a cui abbiamo dato vita è Darwin Books ed è una piattaforma di monografia di ricerca quando la rete ci aiuta è una piattaforma di monografia di ricerca la caratteristica è sempre una piattaforma institutional la caratteristica di questa piattaforma prima abbiamo 80 riviste quasi 100.000 item eccetera eccetera questa è una piattaforma di libri ma sono libri in streaming quindi qui qualche anno dopo la nascita di riviste web avevamo cominciato a lavorare sui formati dati ok quindi non erano più pdf ma erano altri formati dati quindi era un formato xml espresso in html5 cosa che consentiva la nascita di servizi diciamo di discovery citazionali completamente diversi rispetto all'altra realtà dopodiché l'ultima nata diciamo si chiama Pandora Campus ed è una piattaforma di e-learning ed è una piattaforma di learning dove il diciamo si fa un passo in più no? non abbiamo un formato pdf abbiamo un formato in streaming non abbiamo monographs non abbiamo libri di ricerca abbiamo manuali e se abbiamo manuali abbiamo uno strato di servizi che guarderà meno ad alcuni aspetti della ricerca scientifica a favore di altri quindi sono servizi legati all'e-learning legati all'apprendimento che vuol dire che il modello economico le interfacce di costruzione il formato dati il lavoro sui metadati è stato diverso in tutte e tre le piattaformi però queste cose non esistevano cioè oggi sono relativamente nuove relativamente scontate allora erano completamente nuove il che vuol dire che noi quando abbiamo cominciato ci trovavamo più o meno a parte qualche grande esempio internazionale molto interessante ci troviamo realmente di fronte a un foglio bianco foglio bianco in cui dire e quindi chi copiamo chi sono qual è il benchmark qual è il punto di riferimento questo ve lo dico perché nelle professionalità che nel tempo abbiamo scoperto di dover usare c'è questa evoluzione cioè noi siamo passati da avere bisogno di alcune figure professionali in un mercato nuovo completamente da scoprire a oggi in un mercato più maturo e più articolato ad avere bisogno di quelle più altre figure professionali quindi un editore guarda a un contesto universitario non in maniera statica ma in maniera dinamica perché i bisogni evidentemente cambiano nel tempo i bisogni sono di un certo tipo perché noi ovviamente ci occupiamo di produzione ci occupiamo di commercializzazione ci occupiamo di disseminazione di mezzo ci occupiamo di customer care ci occupiamo di inventarci dei modelli economici e di accesso quindi le persone che lavorano con noi in questo campo spaziano attraverso una serie di competenze e quindi questo è un dato che magari dopo si può approfondire che può essere importante aggiungo solo e chiudo che queste tre piattaforme sono state possibili perché appunto qualcuno mi diceva tenete tutto tenete tutto non buttate via voi immaginatevi se andate a prendere a caso gli archivi digitali di qualsiasi editore del mondo chissà com'è a metà degli anni 90 metà inizio anni 90 non ci sono ve li vendono come bonus ok semplicemente perché fino a quegli anni i file si buttavano i file si buttavano cioè uno produceva un libro a stampa o un articolo a stampa e poi il file lo buttava via non solo erano prodotti come erano ma si buttava non era un valore quindi a un certo punto noi capimmo che invece era un valore capimmo soprattutto che anche solo per produrre carta bisognava gestire le cose in un certo modo e prima di fare queste tre piattaforme demmo vita a un repository di tutta la nostra produzione libraria è un repository versionato multiformato ed è una piattaforma di archiviazione e di processo che condividono tutti i nostri fornitori e che è stata un po' la chiave di volta delle nostre realizzazioni cioè noi abbiamo reingegnerizzato i processi produttivi e i processi di archiviazione per poi poter produrre delle piattaforme con costi marginali sensati e organizzativamente sostenibili per cui noi oggi abbiamo un unico flusso di produzione da cui produciamo la stampa ebook xml per le piattaforme eccetera 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 questo è stato un punto importante che ha segnato le professionalità iniziali di cui avevamo bisogno e poi naturalmente farle evolvere anche da altre parti però ecco diciamo la prima grande sfida è stata quella di provare a formalizzare una cosa che formalizzata non era che era un processo creativo magmatico distribuito non organizzato eccetera quindi la prima mossa fu quella da lì sono arrivate le piattaforme e le professionalità hanno seguito un po' questa evoluzione ci sarà modo forse di approfondire a questo punto tutti i nostri relatori a venire qui abbiamo pronto mi senti grazie a tutti sedetevi un po' come volete dove volete io dedicherei questi ultimi 40 minuti circa a una veloce panoramica di idee di punti di vista pensata specificamente per calmare entusiasmare guidare l'aspirante digital humanist nelle sue scelte dicendo sostanzialmente che è un percorso che è culturalmente interessante che è accademicamente totalmente aperto ma che si spera questa chiacchierata di oggi voglia dimostrare che ha anche una ricaduta sul mondo reale fuori dall'università e che genera interesse da parte delle aziende per cui io ho preparato un piccolo diciamo così elenco di topic di argomenti e mi piacerebbe avere da parte dei partecipanti la loro opinione non tutti siete obbligati a partecipare su quale domanda però insomma abbiamo abbastanza tempo per raccontarci un po' di cose allora la prima domanda è in quale maniera secondo voi la vostra azienda è pronta a accettare a coinvolgere digital humanist e se ritenete che la vostra azienda sia un caso isolato ossia ragionevolmente rappresentativa del vostro specifico settore industriale nel senso che non siete appunto un outlier o una situazione particolare ma rappresentate una reale esigenza di questo tipo di professionale cosa ci aspettiamo con digital humanist noi sostanzialmente siamo digital humanist siamo totalmente digital humanist siamo digital humanist quindi quindi se la parola nei fatti quello che va detto che sostanzialmente si va a prima schiena un attivista informato di carico alla fine dei conti quello che è sempre stato e continuerà ad essere a questo punto di vista bisogna capire che cosa digital humanist comporta in più rispetto alla formazione normale che noi già facciamo con i nostri archivisti da questo punto di vista io credo che il passaggio in più è sostanzialmente sulla consapevolezza e sulla capacità di trattare appena questi temi non è detto perché ci offre un rigido un po' e quindi da questo punto di vista è necessario questo punto di trattamento da questo punto di vista sicuramente di trattamento io penso che rispetto al panorama delle aziende informatiche da quello che ho avuto modo di vedere negli anni esistono sicuramente delle aziende che lavorano quasi esclusivamente su prodotti rivolti alle dirigite di umane che lavorano nell'ambito dell'arte specializzata nell'ambito archivistico noi forse come azienda invece abbastanza eterogenea che spazia tra varie tecnologie e vari ambiti il fatto di avere un comparto dedicato quasi esclusivamente a questo tipo di progetti sia non dico un'eccezione però non sia il caso più frequente nell'ambito delle aziende informatiche da noi comunque i ragazzi che hanno una formazione provenienti da questi corsi di laurea trovano possibilità di impiego sia in questo comparto ma anche negli altri dell'azienda comunque nell'ambito dell'analisi dei dati o della comunicazione stessa per cui la formazione interdisciplinare e tutte le competenze acquisite fanno sì che anche nell'ambito di un'azienda che si occupi di varie cose un laureato in Digital Humanities si può se ha la capacità personale ovviamente di adeguarsi adattare ai vari ambiti in cui l'azienda lavora che tra l'altro è quello che ha permesso anche a me appunto porto il mio esempio in prima persona di crescere e di cambiare nel corso degli anni ambito di lavoro e anche formazione professionale sì nel nostro caso come dicevo durante l'introduzione abbiamo avuto esperienze anche molto virtuose di laureati di studenti poi laureati in Digital Humanities che poi sono diventati attivamente parte della nostra comunità quindi diciamo che partiamo dal presupposto che il modello evidentemente almeno per noi funziona e ovviamente come anticipavo e forse emerge anche dal discorso con i colleghi noi non siamo nativamente un'azienda che fa Digital Humanities cioè non è il nostro main business facciamo delle cose collegate facciamo delle attività nel perimetro delle Digital Humanities peraltro siamo soci del cluster nazionale Tiche che è il cluster sui beni culturali e le tecnologie e in questo senso abbiamo avuto l'onore di rappresentare il cluster in un progetto territoriale molto importante dedicato peraltro all'Ariosto che abbiamo inaugurato da poco quindi è evidentemente un'attenzione siamo membri anche del cluster regionale sui beni culturali quindi è evidente che c'è un interesse però mentirei se dicessi che il punto di riferimento dell'azienda lo dico come dire nel rispetto dei colleghi che invece hanno una tradizione differente è evidente che nel nostro caso la competenza che noi cogliamo in un corso di laurea come quello di cui stiamo parlando oggi ma in generale in questo perimetro di competenza è la competenza legata alla capacità di gestire la testualità e anche quella parte diciamo della testualità che va poi ad organizzare le informazioni e che gestisce per esempio le interfacce anche qua l'argomento e l'ambito sarebbe molto lungo però quello che prima rubricavo come user experience user interface è uno dei punti forti del vostro corso di studi del vostro percorso di studi ed è una cosa che evidentemente è di interesse non esclusivamente per il settore delle digital humanities cioè c'è la possibilità di guardare anche oltre perché di fatto questo genere di competenza può portarsi e spingersi anche in altri territori ed è una cosa da non sottovalutare in questo senso noi in chiudo abbiamo avuto esperienze virtuose cioè di persone che lavorano al nostro interno sui temi delle interfacce occupandosi di digital humanities quando il progetto lo consente e lo richiede cioè quando c'è un progetto di questo tipo ma facendo anche altre cose che comunque non dimenticano le componenti umane nel senso che alla fine le persone quello che progettano come dire quello che progettiamo lo devono utilizzare quindi in questo senso vedo un tema che e chiudo sull'ultima domanda di Fabio è di interesse anche per altre aziende che non sono necessariamente nel nostro comparto cioè ci possono essere interessi che vanno oltre il contenuto specifico delle digital humanities perché alcune delle vostre competenze nel giudizio sono trasversate ma allora noi siamo un'azienda molto piccola quindi non cercherò di estrapolare delle leggi improbate però io la vedo così da due punti di vista differenti cioè per chi si occupa di biblioteche quindi un po' indipendentemente dalla nostra realtà aziendale secondo me non c'è una possibilità molto forte di assorbimento e quindi non ci sono delle competenze specifiche richieste da aziende come la nostra noi abbiamo un po' avuto la la vertigine della pagina bianca devo dire che per questo tipo di attività sperabilmente è una vertigine che rimarrà non nelle cose che facciamo oggi ma in altre che verranno e qui secondo me contano moltissimo le competenze verticali cioè l'esperienza che abbiamo fatto molto noi che è chiaramente necessaria un'ibridazione e devo dire che nella nostra esperienza è più facile che un umanista abbia imparato a maneggiare un database che un laureato in ingegneria o in informatica diventare diciamo un bravo studente del secondo anno di storia o diciamo di filologia classica quindi c'è un po' più di propensione all'ibridazione dal lato umanistico che non dal lato informatico e quindi questo diciamo in qualche modo determina il fatto che poi le figure di progettisti eccetera sono tipicamente più umanisti che hanno imparato cose informatiche però al di là di questo l'altra osservazione è che io guarderei al mondo dei nostri clienti cioè al mondo delle biblioteche che è un mondo che versa oggi dal punto di vista degli addetti e del loro livello di digitalizzazione in condizioni disastrose e devo dire che questo riguarda le biblioteche pubbliche riguarda le biblioteche statali quindi le biblioteche rivolte a un pubblico generalista le biblioteche di conservazione riguarda il mondo della scuola dove addirittura le biblioteche che sono in qualche modo dal mio punto di vista il primo gradino di accesso al mondo della lettura per le persone neanche esistono ecco questo è un mondo in cui invece c'è una esigenza fortissima e credo che in questo ambito diciamo sia nettamente prevalente diciamo la figura dell'umanista ibridato da competenze informati e poter poter svolgere tanti ruoli allora il nostro lavoro in digital paths fondamentalmente è la fusione di questi due approcci insomma umanistico e tecnologico e digitale e facciamo questo fondamentalmente e mi è da pensare che noi abbiamo avuto solamente uno studente che veniva da questo percorso è stato per me impressionante la facilità con cui lui riusciva a maneggiare entrambe le cose e se penso invece la difficoltà che ho avuto io a fare a mettere insieme due percorsi sono nativo digitale e quindi ho prima fatto informatica poi comunicazione per me è stato un delirio trovare dei ponti perché connettevano questi due mondi invece la facilità con cui questo ragazzo che lavorava con noi mi ha veramente impressionato e questo sia merito insomma delle persone qui che hanno messo insieme questa proposta formativa tant'è che poi non volevamo che restasse con noi ma lui vuole fare il dottorato vuole intraprendere questa facile carriera universitaria e quindi vabbè gli facciamo insomma in bocca al lupo però questo per dire insomma che noi cerchiamo persone che hanno questo tipo di approccio che riescono insomma a maneggiare sia il lato umanistico il lato tecnologico delle cose quello che facciamo noi appunto è creare questo tipo di progetti e stiamo cercando queste persone poi rispondo brevemente anche sono da parte della domanda vedo che tutte le agenzie digital hanno questo tipo di necessità cioè trovare delle persone che riescono a avere competenze e poter passare da un argomento all'altro capire quei suoni trend tecnologici come le persone interagiscono comunicano è quello di cui tutti noi in questo settore abbiamo assolutamente bisogno direi che molto molto è stato detto aggiungo solo qualche ingrediente allora è quello del tempo cioè è chiaro che di che tipo di digital humanista hanno bisogno le aziende quando in che momento noi abbiamo storicamente quello che vi posso dire è che noi abbiamo assoluto persone che hanno fatto il corso abbiamo assoluto i nostri laureati come sapete vedete abbiamo assoluti con grande soddisfazione quindi anche ringraziandovi cioè una preparazione che certo il bisogno cambia a seconda del momento aziendale ad esempio anno scorso disperatamente una figura tecnicamente molto preparata quindi di skill di produzione molto molto è stato un momento oggi forse avremmo bisogno di altre cose per cui cambia servono le competenze verticali serve il saper unire i team seconda delle occasioni e quindi è nell'equilibrio tra l'essere capaci di fare cose in maniera approfondita e la visione d'insieme che noi ci orientiamo devo dire noi vuol dire questo secondo me un'altra osservazione che può essere lì noi vuol dire all'interno delle persone di trice vuol dire avere collaborazione con persone all'esterno non è che li possiamo assumere ci farebbe piacere però ecco bisogna intendersi noi cerchiamo a volte professionalità per collaborazioni stabili a volte per collaborazioni molto intense attemporane questo è un'altra un altro ingrediente che secondo me va considerato cioè non è che il lavoro dipendente è l'unico sbocco per il laureato di questo dipende noi collaboriamo con tante realtà esterne che hanno di volte in volte bisogno collaboriamo riusosamente con singoli gruppi di singoli noi ci amate dei loro però ecco ci vuole un po' di flessibilità c'è una luce negli occhi nelle aziende e un po' di flessibilità e di immaginazione professionale anche in voi nel momento in cui vi propone forse tu avrai una domanda sulle competenze che non ci sono prima di arrivare alle competenze io vorrei appunto introdurre una piccola bomba a mano nella discussione che è un argomento su cui voi provate parlarne con le aziende e questi subito iniziano a toccar ferro a guardare altrove eccetera eccetera cioè la capacità di in qualche maniera prevedere le esigenze cioè noi stiamo in realtà pensando di preparare delle persone che arriveranno mature al mercato fra tre due quattro anni eccetera eccetera e quindi di cercare di capire in quale maniera le aziende prevedono e si organizzano per essere in grado di recepire e di coinvolgere persone che oggi decidono se o meno per seguire un certo ciclo di studi o un altro sulla base di quello che il mercato non chiede oggi ma sperabilmente chiederà per tre anni quindi la domanda è c'è un mercato continuativo per i digital humanist nel vostro ambito e ritenete che ci sia ancora tra tre anni ritenete che ci sarà ancora tra cinque anni siamo in grado in qualche maniera di fare una panoramica di medio periodo quantomeno sulla necessità del mercato di assorbire e di ricevere il tipo di preparazione di cui stiamo parlando facciamo il giro allora va considerato che adesso c'è una una cosa che attualmente è il PNRR e quindi vuol dire che ci sono circa 150 quantieri che stanno partendo adesso di digitalizzazione a livello nazionale esistono altre gare che stanno partendo quindi io direi che l'esigenza l'esigenza è ora è un po' un po' sbagliato rispetto alla domanda però l'esigenza è ora non so fra tre anni quale perché fra tre anni finisce il PNRR quale sarà l'esigenza di nuovo personale di nuovo personale su questo su questo terreno io so che adesso avremo bisogno in maniera intensiva di project manager e digitalizzatore e quindi di umanisti digitali questo ne abbiamo bisogno attualmente quindi sbrigatevi a laurearli tra tre anni non vi posso assicurare nulla allora per quanto riguarda la nostra azienda comunque la piccola premessa è che nel corso del tempo c'è stata una grandissima flessione rispetto al percentuale brutalmente di fatturato proveniente dagli ambiti proprio legati al digital humanities dagli anni dal 2012 fino ad ora adesso rispetto alla totalità dei lavori aziendali ricopre più o meno circa il 10% quindi non è il core business della nostra azienda però c'è anche da dire che l'anno scorso davamo per estinto il filone quest'anno è ripartito nuovamente sicuramente grazie all'impatto del PNRR per cui davanti a un'esigenza che nei prossimi due o tre anni sarà forte secondo me bisogna avere la capacità di vedere un po' più in là quindi tutto l'investimento che si farà in questi anni di metterlo a frutto di far formare le figure necessarie in modo che fra due o tre anni avranno delle competenze che se non rivendibili nell'ambito delle digital humanities certamente delle digital humanities saranno rivendibili in altri ambiti in senso più ampio una figura che cresce ora inizia a sviluppare capacità di project management in questo ambito tra tre anni lo potrà rivendere in un altro ambito per cui l'importante secondo me è sempre mantenere una visione ampia ma la formazione stessa che ricevono gli studenti spinge a questo lo riporta a non focalizzarsi solo su un settore ma a vedere sempre come le varie le varie cose che apprendono possono essere usate in altri ambiti nel nostro piccolo un laureato di questo stesso istituto è passato dalla gestione di processi industriali all'analisi dei testi in base a quello che richiedeva in momento l'azienda quindi la capacità di avere questa flessibilità che è nata secondo me in cui sceglie questo tipo di percorsi di studi penso che possa aiutare nel futuro io vorrei provare a girare la domanda nel senso che rispondo in maniera veramente sospetta piuttosto che dire che cosa noi possiamo aspettare sullo scenario del futuro che è cosa evidentemente difficile vorrei provare a suggerire di orientare chi si iscrive fa questo corso come dire di aiutare queste persone ad orientare il loro futuro perché alla fine l'azione proattiva deve partire da chi inizia un percorso di questo tipo il sistema industriale cambia con una certa rapidità ma al contempo ha alcuni elementi fondanti che possono essere interpretati dall'inizio e essere utilizzati per costruire la propria professionalità ed è con la propria professionalità che ci si avvicina quindi anticipare l'offerta per cercare poi di cogliere le domande che possono variare altrimenti il rischio di dire sì adesso la situazione tra tre anni cambierà che è giusto però è anche un elemento che è difficile da predire allora secondo me alcuni elementi fondamentali che io ho visto in qualche modo interagendo su questo e anche altre esperienze su un costo di laurea come questi sono secondo me molto importanti e possono consolidarsi uno qua tiro acqua il mio mulino evidentemente e tutta la parte della user interface la user experience tutto il mondo della usability questo è un tema importante e qua è molto a mio giudizio utile per gli studenti fortificare molto questo aspetto cercare di cogliere quali sono gli strumenti cercare di interpretare la propria formazione come un insieme di teorie e di strumenti in modo tale che il proprio curriculum sia decodificabile anche nello strumento che tu sai usare e nella capacità di conoscere l'evoluzione di quello di quegli strumenti in funzione del mercato e delle mode del momento che sono già un decodificatore utile per le aziende per capire effettivamente se in un certo momento questa cosa può rivelarsi importante utile e di interesse un altro campo di interesse è tutto il tema anche qua semplifico molto di gestione dei dati dei metadati e di tutto quello che è intorno al dato questo deve essere un aspetto di una competenza da coltivare molto bene spostandola anche su dei terreni meno consueti rispetto a questi con Fabio è capitato di parlarne a lungo il tema della info view per esempio della rappresentazione informativa è un argomento di cui spesso non si parla o spesso si parla ed è comunque un argomento centrale su cui le competenze distintive sono poche e le competenze peculiari sono poche cioè gente che arriva in azienda e dà una soluzione a un problema di questo tipo non è tanta costruirsi una competenza di questo tipo a partire dai dati durante lo studio può costituire un punto distintivo interessante nella propria formazione un altro ambito è il tema dei fattori umani lo citavo cioè il contributo della scienza cognitiva o delle scienze cognitive dell'economia cognitiva all'aspetto della progettazione del contenuto digitale qua voi avete corsi di questo tipo è utile sfruttarli per avere un armamentario scusate l'espressione metodologico utile a validare o a valutare i progetti che fate non solo con delle metriche diciamo principalmente qualitative ma sia qualitative che quantitative tema non secondario per esempio nei contesti industriali più maturi dove a volte è importante dirlo vogliono anche delle validazioni quantitative e numeriche per prendere delle scelte e delle decisioni e voi avete la competenza di unire i due contesti e quindi è molto utile queste sono tre delle cose possibili che possono venire in mente ed emerge e come dire fare emergere e costruire un curriculum che possa essere interessante l'elemento che voglio ribadire è che però il punto di forza deve partire da chi si propone nel definire un CV per semplificare ancora una volta che abbia dei punti di interesse distintivi perché in realtà io credo che i curriculum le aziende e in generale il sistema industriale li guardi con l'attenzione in più delle volte si insospettisce quando sono un po' generici ma se sono precisi non paulissi precisi e ci sono dei punti di interesse io credo che siano un'offerta significativa per intercettare domande da parte del mercato io di nuovo seguisco la domanda dal punto di vista diciamo della mia azienda anche perché le origini napoletane mi impediscono di fare previsioni a tre anni strutturalmente però diciamo oppure avrei un repertorio diciamo di invocazioni gesti a quattropaici che però non sono diciamo adatti diciamo consoni all'occasione però invece seriamente sono fermamente convinto che ci sono due cose che hanno una stabilità assoluta tra l'altro mi veniva in mente anche mentre parlava Andrea Angiolini prima cioè in primo luogo sul libro limitandoci diciamo io mi occupo di biblioteche digitali che naturalmente distribuiscono tante cose non solo libri però il libro è la cosa è l'oggetto principale che fa parte di questi di questi aggregati allora il libro è stabilmente digitale se guarda se pensate a quello che ci raccontava prima Andrea Angiolini diciamo quello che faceva il mulino parecchi anni fa prima dell'ebook il libro era già digitale prima che esistessero i libri digitali quindi io direi il libro è il modo di produzione del libro oggi è stabilmente digitale non sarà fra vent'anni fra dieci anni uguale a quello che facciamo oggi dubito che al mulino facciano l'xml nel modo che lo facevano tanti anni fa ma lo continuano a fare e alla base diciamo degli standard successivi eccetera eccetera c'è quella quella stessa logica quindi diciamo dietro una apparente diciamo innovazione ciclica continua eccetera c'è anche un sostrato di stabilità molto forte che dura anche alcuni decenni poi le biblioteche qui proprio non c'è nessun dubbio se uno guarda le statistiche delle biblioteche nei posti in cui le biblioteche hanno un pubblico vero e purtroppo tra questi luoghi a questi luoghi non appartiene l'Italia spesso agli Stati Uniti ai paesi scandinavi alla Germania in parte all'Olanda ma non alla Francia non all'Italia eccetera che cosa abbiamo visto abbiamo visto due cose molto semplici che proprio si riassumono rapidamente dal 2007 2008 esiste un trend di diminuzione progressiva dei visitatori fisici delle biblioteche poi e questo è uguale per tutti cioè in Italia è drammatico però vuol dire in altri paesi è stato assolutamente identico però diciamo le vie divergono sugli effetti di questa diminuzione se voi guardate il trend di utilizzazione delle risorse in una biblioteca americana o scandinave sono aumentate sono diminuite quindi mentre in Italia noi abbiamo avuto un impressionante peggioramento delle performance bibliotecare negli Stati Uniti c'è stato un incredibile aumento della performance bibliotecare e questo è a fronte del fatto che oggi l'uso delle collezioni digitali vale e lì possiamo misurarle esattamente qui per esempio non possiamo neanche misurarle esattamente vale circa il 35-40% del totale quindi le biblioteche stanno diventando digitali cioè il parte diciamo portare i processi la pubblicazione delle risorse delle biblioteche in digitale è un modo per mantenere il grip con un pubblico e una società un modo di consumo della cultura e del libro in particolare che sta cambiando poi ci sono tante differenze specifiche però direi che questo è proprio un nucleo stabile difficilmente discuti brevemente quello che penso è che le agenzie digital sono nate i primi anni 90 dopo internet arrivo di internet sono più da mai 30 anni e insomma ci saranno anche il futuro per un parlo della mia ma in generale ci saranno insomma le aziende insomma i soggetti hanno bisogno di comunicare e si affittura dei professionisti finché poi la comunicazione sia efficace il lavoro è cambiato questi insomma 30 anni io poi insomma ho un'agenzia da 4 anni quindi ho visto in prima persona solo un piccolo parte di questa evoluzione è cambiato molto se lo cambiate le tecnologie se lo cambiate i canali se lo cambiate tutto fondamentalmente però insomma il tipo di attività c'è ci sarà anche dopo servono sempre competenze nuove e spesso non è facile trovarle faccio un esempio riguarda appunto una piccola esperienza in questi anni non stiamo riuscendo a trovare dei digital project manager può sembrare una banalità però quelli che troviamo hanno tutti delle competenze che arrivano dal mondo degli esemplatori degli informatici che non vanno bene lo dice l'informatica cioè nel senso che hanno un approccio agile scrum ci dicono tutti gli sprint con cui devono fare gli sviluppi i vari programmatori ma noi non cerchiamo solamente questa cosa perché noi lavoriamo sì con gli sviluppatori ma anche con persone che lavorano con la comunicazione con la creazione di contenuti quindi serve una diversa sensibilità quindi trovare un giro di project manager per un'agenzia di comunicazione che sappia parlare con il sviluppatore ma sappia anche parlare a social media manager al cliente è una cosa molto complicata e noi sono due anni che li stiamo cercando e persone veramente con queste competenze ancora non le abbiamo trovate parole molto sagge sì diciamo io non credo io credo che la maggioranza di chi esce da un corso di digital humanities non farà digital humanist in un'azienda da qui a tre anni cioè guardando l'ordine degli studi ci sono delle professionalità che matchano o matcheranno probabilisticamente con quello di cui però in realtà noi abbiamo bisogno comunque delle competenze insite nel digital e insite nel humanist cioè voi formate alcuni profili professionali che sono certamente interessanti per il mercato ma che non esauriscono il mercato dire che tra tre anni saranno quelli giusti naturalmente è molto difficile però certamente in parte serviranno in parte io credo che la formamentis di questo tipo di studi le competenze applicate a settori specifici oggetto di materia di insegnamento penso che potranno essere utili certo forse si può mettere l'accento su quello che è stato detto anche quando si diceva anche un momento fa noi cerchiamo persone che facciano parlare persone perché in fondo noi eravamo tutti convinti alcuni di quelli che erano sono seduti qui certamente io e te eravamo convinti trent'anni fa che la rete avrebbe collegato contenuti abbiamo scoperto che ha collegato contenuti ma ha collegato anche persone oltre che tutti e allora gli aspetti come dire che stanno tra la comunicazione e la psicologia evocata anche prima la psicologia cognitiva nella costruzione dell'interfaccia che è un modo di parlare un po' ma un momento fa gli aspetti comunicativi secondo me sono gli aspetti ricercati che dovranno essere valutati cioè diventano un po' il collante attraverso cui si esprime una professionalità specifica che guarda le tecnologie web che guarda la interpretazione che guarda gli aspetti di produzione cose ottime oggi siamo in un mondo in cui abbiamo capito che appunto colleghiamo contenuti ma colleghiamo anche così colleghiamo libri diceva Giulio Vlasi mi ritrovo perfettamente nella sua analisi colleghiamo libri che sono ormai stabilmente digitali colleghiamo evidentemente anche oggetti digitali che non sono libri e che sempre di più entrano in dialogo col libro e quello è un altro terreno con me interessante cioè il rapporto non solo del video per il video ma del video il rapporto al testo e dell'audio il rapporto al testo uno viene prodotto sapendo che nell'ecosistema mediatico c'è anche altro quindi le professionalità si sovrappongono pensate adesso all'AIP su Todra adesso vediamo se siamo nel punto massimo siamo già in fase in fase calante però è una forma di testualità orale non figurativa che non ci saremmo immaginati seriale che non ci saremmo immaginati quindi credo che le professionalità da qui a tre anni saranno nell'interstizio anche di settori nuovi penso per esempio che gli aspetti legali sono più importanti visto che c'è un insegnamento su questo ma non se cresce nel senso che ci sono tanti aspetti perché c'è c'è copyright ci sono le licenze ci sono istituti privatistici c'è un mondo ci sono gli aspetti di mercato ci sono gli aspetti comparativi col mercato internazionale cioè non è un mercato nazionale quello che noi facciamo e che per battuta vorrei collegarmi a chi ha parlato per prima e dire ma siete voi che ci volete dire per certi tre anni non siamo qui quindi un po' è vero un po' non è vero non è un fatto italiano quindi noi per sapere cosa succede da qui a tre anni non dobbiamo guardare quello che facciamo e basta dobbiamo guardare quello che succede all'estero e quello è una competenza devi avere una mappa devi organizzare un'indagine devi capire quali sono le metriche di mercato quindi secondo me anche queste sono competenze con il gruppo cioè la capacità di muoversi in un contesto dato in un mercato identificare le metriche eccetera io credo che noi fino adesso abbiamo volato altissimo e per la terza e ultima domanda vorrei in realtà scendere sul concreto e sul pratico proprio la lista della lavandaia e in pratica visto che uno degli scopi di questa riunione è anche fare un po' di comunicazione con gli stakeholder per raccogliere feedback su quello che facciamo quello che non facciamo se lo facciamo bene o se lo facciamo male secondo voi il digital humanist ideale per essere assunto nella vostra azienda quali competenze di base deve arrivare ad avere durante il colloquio d'assunzione e quali invece potete pensare che possono essere anche raccolte e apprese diciamo così on the job durante le attività stesse cioè che cosa io devo già avere domattina e che cosa invece l'agenda stessa si pensa in grado di fornire o pensa di voler personalizzare alle prossime esige alle proprie esigenti il neo assunto e seconda cosa esiste un atteggiamento premiante o sostanzialmente il candidato sicuro di sé il candidato timido e pronto a subire e a seguire le indicazioni l'ambizioso oppure l'ubbidiente insomma esiste anche un atteggiamento mentale che secondo voi premia o no nel vostro specifico azienda nel vostro specifico settore non saprei che rispondere alla seconda non so adesso come come si potrebbe meglio presentare un candidato devo dire che questa è una è un faccio faccio colloqui è una è una situazione che ogni volta ogni volta è diversa e da questo punto di vista non cambia quello che quello che c'è è quello che è necessario è che queste persone debbano essere degli umanisti io qualcuno l'ha detto cioè che è più semplice per un umanista diventare sì diventare digitale che l'inverso cioè nel senso che fare l'inverso è un processo molto più lungo e non sempre ha risultato positivo anche perché il mercato richiede molto più esperti digitali a cui è in grado di offrire molto di più di quanto possiamo tra l'altro offrire noi e quindi io ho bisogno di un umanista che conosca il digitale conosca il digitale vuol dire conosca i modelli dati sappia di che cosa si parla conosca l'XML sappia di che cosa si parla conosca un modo formale di gestire il ragionamento in questo ambito questo è uno degli aspetti più complessi da ritrovare cioè riuscire a trovare persone che siano in grado di scomporre il ragionamento in singoli passi formali per poterli poi ricombinare eventualmente in un altro modo in questo senso quindi serviranno degli umanisti che sappiano di digitale alla fine è questo quello che la nostra è comunque un'azienda di informatica per cui proprio spontaneo mi viene da dire che sappia un po' programmare che non arrivi proprio digiuno di linguaggi di programmazione ma non vuol dire che ci aspettiamo lo sviluppatore senior o il mega genio dell'informatica ma che conosca quantomeno le logiche di come si ragiona sulla produzione di un software delle basi di un linguaggio di un qualsiasi linguaggio di programmazione perché quello che poi mette a disposizione l'azienda ovviamente in questo campo è la formazione quindi lavorare però non partendo proprio da zero questo sicuramente diciamo che quando arrivano i curricula da parte degli studenti è la prima cosa su cui guardiamo un po' di più perché comunque i tirocini specialmente a volte sono molto brevi per cui partire già da una base consolidata esistente permette di andare molto più velocemente poi nel processo di formazione e per quanto riguarda gli atteggiamenti premianti sicuramente appunto la buona volontà di studiare di completare la propria formazione rispetto a quello che in quel momento richiede il progetto su cui si sta lavorando l'essere propositivi l'essere proattivi rispetto anche alla risoluzione di problemi nella nostra azienda specialmente perché è un'azienda comunque media i gruppi di lavoro sono abbastanza piccoli quindi che ognuno porti il suo contributo a un progetto per noi è un elemento che sicuramente è importante e lo richiediamo e lo accogliamo volentieri quando arriva anche dal dal tirocinante appena arrivato o dal collaboratore dalla collaborazione appena avviata sì io ancora una volta cercherò di non dire in maniera specifica quello che mi aspetto che ci aspettiamo perché non riesco ad immaginarlo su uno scenario di lungo termine o in generale uno scenario stabile quindi quello che posso dire saranno cose un po' più generali ma che credo siano importanti non solo per noi ma per chiunque la prima cosa che secondo me è importante che sia evidente in chi si affaccia a questo mestiere è di conoscere evidentemente un tema o alcuni temi per cui ci si propone e sapere qual è lo stato dell'arte delle competenze di quel domenio faccio un esempio se parliamo del contesto che conosco meglio scusate se mi ripeto della UX UI cioè della user experience della user interface se io arrivo in una candidatura devo essere al corrente di quali sono in quel momento gli strumenti oltre che naturalmente le teorie le metodiche ma queste le do per scontate gli strumenti per così dire stato dell'arte hype e averli a disposizione e conoscerli bene avendo la capacità di intuire quali sono quando io arrivo sul mondo del lavoro e questa è una competenza sapere che in questo momento scusate la banalizzazione va di moda X e sappiamo tutti che nella dinamica dei tool c'è un'evoluzione per così dire legata in qualche misura alle mode alle situazioni ecco conoscere quella cosa o quelle cose e averle a disposizione come l'evento di proposta verso il tuo potenziale e la tua di lavoro evidentemente aiuta e ripeto la competenza è coglierli non è aderire ad una moda ma cogliere il potenziale del perché quello strumento quegli strumenti in quel momento sono così interessanti e ricercati e se siamo interessati a quel dominio avere evidentemente la capacità di saperli usare e di propoli la seconda cosa qua potrebbe sembrare una banalità ma credetemi vedendo tante persone non lo è è riuscire a trasmettere a chi avete in qualche modo dall'altra parte del colloquio l'entusiasmo per la propria conoscenza e per il dominio nel quale ci si appresta a lavorare cioè deve esserci qualcosa che vi piace di ciò che fate o di ciò che vi candidate a fare più del lavoro che state cominciando a fare questo è un tema importante perché fa parte della vostra vita oltre che del vostro lavoro sembra una banalità ma spesso la sua assenza perlomeno per me può essere un elemento che motiva meno a fare le cose do anche il contrario cioè se da una parte l'entusiasmo è un ottimo elemento per guidare la propria la propria esperienza l'interesse forse più che l'entusiasmo il piacere di quello che tu fai dall'altra i limiti sono un concetto essenziale quello che ci noi lo vediamo sui progetti più grossi che a volte ci troviamo a dialogare con contesti industriali molto grandi la capacità di essere come dire in grado di percepire i propri limiti e i limiti nel contesto in cui si opera è un elemento molto importante perché evita veramente delle come dire delle fuoriuscite per così dire un po' un po' problematiche che poi mettono in difficoltà le persone e anche quelli con cui con cui si lavora ecco questi sono due dei temi che secondo me sono necessari per chiunque e naturalmente di grande e fondamentale interesse per le aziende allora quello che posso dire è che noi in agenzia il lavoro insomma cambia sempre e questo insomma è bello ma anche molto stressante però quello che serve ovviamente è avere un approccio insomma curioso verso il lavoro e verso quello che facciamo perché tanto gli ultimi progetti che abbiamo fatto abbiamo studiato da zero la tecnologia abbiamo studiato da zero quello che serviva per fare quel progetto quindi serve questo tipo di curiosità e di volontà quello che facciamo ultimamente è cerchiamo delle persone che hanno delle competenze trasversali quindi non assumiamo mai o delle persone o cerchiamo delle persone che siano super verticali su qualcosa proprio perché lavoro in agenzia digital nel nostro lavoro è talmente dinamico e orizzontale che non sappiamo non possiamo mai prendere una persona per cercare su una cosa perché poi alla fine fa solo un pezzetto del lavoro e non giochiamo poi noi siamo in agenzia piccola quindi diciamo che noi giochiamo un po' su tanti livelli su tanti ruoli in merito all'approccio sempre forse perché insomma quello che voglio fare io la nostra società è orizzontale e siamo tutti al stesso livello chi entra in agenzia poi subito ha responsabilità di seguire i progetti anzi ha l'obbligo di portare un approccio diverso nel vedere le cose una vista è diversa tra le cose soprattutto perché ho bisogno di ragazzi che ci portano come dire le modalità di comunicare perché capiscono meglio le grammatiche sui diversi canali di comunicazione cosa che io per esempio non riesco a fare quindi chi viene in agenzia viene subito responsabilizzato di seguire i progetti quindi a noi piace avere le persone che hanno voglia di sperimentare e che non hanno la vorra di sbagliare tanto facciamo tutti il centro rapidissimo perché non ho un gran che da dire nel senso che ripeto un po' una cosa già detta cioè dal nostro punto di vista diciamo le competenze verticali sono più importanti facciamo delle cose che sono abbastanza semplici per consentire diciamo l'ibridazione necessaria come attività aziendale è chiaro che siamo più contenti se dovesse dire il mio sogno immaginerei non so un dottorato in biblioteconomia che però ha seguito un percorso parallelo ed è una diciamo un eccellente programmatore è in grado di maneggiare database come fossero acqua corrente e conosce diciamo ben addito la scienza dei dati e il machine learning però queste sono battute che non hanno nessun senso quindi direi in un'azienda come la nostra il punto il punto non è non è quello diciamo dal punto di vista dell'atteggiamento premiante ecco il punto diciamo di aziende come la nostra è invece che sicuramente c'è un fattore di ibridazione diciamo una necessità di adattarsi a dei compiti che non rispondono in modo diciamo preciso categoricamente a diciamo a lavori che si sono diciamo in posizioni più tradizionali del mercato il bibliotecario il libraio diciamo un po' dell'uno un po' dell'altro un po' una piattaforma digitale quindi la volontà di auto-ibridarsi diciamo nella funzione è molto importante tutto cambia talmente rapidamente che questo è indispensabile no cioè la capacità di saper cambiare lavoro certo è molto difficile misurarla in un colloquio che è per un pezzo incontro tra domanda e offerta io sto cercando in quel momento un profilo tu sei il profilo che io sto cercando e per un'altra componente e per un'altra componente ancora misurazione difficilissima no della di intelligenza ambientale cioè della capacità di muoversi in un contesto no di saper positivamente interagire eccetera eccetera questo chiaramente non è che c'è un master per farlo lì c'è la vita no per cui quello che può fare un percorso formativo è certamente proporre delle solide professionalità che abbiano una visione ampia ampia dei problemi e che sappiano passare da un ruolo all'altro e poi certo chi avrebbe detto diciamo alcuni anni fa che le competenze di tipo statistico sarebbero state necessarie no qui se voi guardate in molti annunci ci sono dei luoghi in cui gli editori pubblicano annunci di ricerca del personale e a volte il data scientist o comunque lo vogliate chiamare è una professionalità che una volta non c'era e che adesso è richiesta poi ci sono i casi della vita il fatto che tu noi oggi cerchiamo dei collaboratori esterni che sappiano fare solidamente edizioni digitali perché vogliamo allargare oggi il nostro il nostro giro tra una settimana non lo so ma perché è vero perché è vero quindi francesca Paola e Fabio insomma siete qui diciamo è l'occasione perché oggi c'è una richiesta di quella cosa lì magari domani cercheremo qualcuno che invece sappia comunicare adeguatamente quello che stiamo facendo e quindi il digital si sposi a competenze e abilità comunicative che guardano che guardano a linguaggi non verbali che guardano ad altre cose perché ovviamente c'è anche quello per cui è un po' anche fortuna va bene io esco da questa da queste due ore di chiacchierata con le idee sono un po' più sollevato psicologicamente ma ancora con le idee un po' confuse ho capito l'ampiezza ho capito la flessibilità ho capito la programmazione questo è fondamentale e ho capito sostanzialmente che è meglio essere un umanista che cerca di trasformarsi in informatico piuttosto che un informatico che si reinventa come un umanista e sono secondo me 4-5 punti secondo me su cui riflettere in maniera approfondita nelle prossime giornate nei prossimi mesi nei prossimi anni grazie a tutti